Un gruppo di turisti russi è stato preso di mira dai gnoti attentatori mentre visitava la fortezza di Narinkala nel Dagestan, un sito protetto dell'UNESCO. Una persona è morta ed altre dieci sono rimaste ferite, gli assalitori sono poi fuggiti. La persona deceduta in ospedale era una guardia di frontiera dell'FSB, i servizi di sicurezza russi. La polizia ha rivenuto sul luogo dell'attacco 67 cartucce di diverso calibro. La Repubblica Russa del Dagestan, popolata a maggioranza da musulmani, confina con la Cecenia e si trova in un'area altamente instabile proprio a causa del conflitto tra estremisti islamici e forze dell'ordine russe.